Musica Michele Misseri oggi afferma che non si meraviglierebbe se sua moglie Cosima gli chiedesse il divorzio. Nonostante questo continua ancora a dichiarare che la moglie non sapesse niente del delitto di Sara. In quanto a Cosima non si riesce ancora a ricostruire la mappa dei suoi spostamenti di quel tragico 26 agosto. Il suo datore di lavoro continua a dichiarare che la donna quel giovedì era al lavoro. In banca però è sempre lei a depositare 4.000 euro sul suo conto corrente. C'è una firma delle 12 e 20 circa che lo prova. Le ipotesi si rincorrono ed in alcuni casi sfiorano l'incredibile. Ed ieri sera l'ultima scioccante rivelazione dell'avvocato Emilia Velletri, legale di Sabrina Misseri, che ritiene che il cadavere ritrovato nel pozzo in Contrada Mosca non sia quello di Sara, perché non ci sarebbero ancora i risultati del DNA. Una possibilità che è stata subito smentita dall'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, in diretta TV. Sabrina intanto continua ad urlare la sua innocenza ma resta in carcere. Il Tribunale del Riesame le nega i domiciliari perché potrebbe fuggire, inquinare le prove ed addirittura tornare ad uccidere. Di sicuro nella tragica vicenda di Sara Scazzi c'è ben poco. Forti dubbi permangono sul posto in cui la 15enne fu uccisa e sull'orario della morte. In un interrogatorio infatti Misseri si lasciò sfuggire che il cadavere era stato trascinato nel garage e quindi verosimilmente la scena del crimine potrebbe cambiare radicalmente. L'orario della morte è un altro punto oscuro. Che l'omicida abbia potuto agire in un misero quarto d'ora appare inverosimile e quindi la morte di Sara andrebbe posticipata di un paio d'ore. A supporto di questa tesi c'è l'esito dell'esame tossicologico effettuato sul corpo della 15enne. Gli esami dimostrerebbero che nello stomaco di Sara non c'è traccia del cibo ingerito poco prima della morte.